Palanga su Carrega, siete tutti fuori? Guardate da là si è staccata all'improvviso e guardate cosa ha fatto fino lì giù Madonna Che scarica che ha fatto E' pericolosa la montagna 30 metri di valanga di più, 300 La valanga di prima si è staccata proprio lì Ha pulito tutto proprio C'erano i compagni che erano in quel punto lì E' un altro gruppo proprio in traiettore della valanga Sono stati veloci eh E' un altro gruppo proprio E' un altro gruppo proprio A presto E' un altro gruppo proprio E' un gruppo proprio